buongiorno miei cari followers come state spero che stiate tutti quanti bene in questo video state vedendo il bellissimo fiume adda uno dei principali fiumi italiani per lunghezza larghezza e portata d'acqua vi chiedo scusa per il fatto che sta traballando l'immagine questo fiume nasce in vale alpisella da una sorgente è immissario ed emissario del lago di cancano e del lago di san giacomo attraversa tutta quanta la valtellina per un tratto più lungo di 100 chilometri entra ed esce dal lago di como più precisamente esce da quel ramo del lago di como che si chiama lago di recco per poi terminare il soccorso gettandosi nel fiume po il maggiore fiume italiano per lunghezza larghezza e portata d'acqua questo posto si trova precisamente fra i comuni di trezzo sull'alba e di capriate san gervasio è un posto che io amo veramente moltissimo lo trovo veramente stupendo favoloso voi cosa ne pensate potete lasciarmi il vostro pensiero giù nei commenti questo fiume bagna le città di lecco e di nodi e fra l'altro bagna anche la peri la periferia sud est anzi no scusatemi sud ovest di sondrio dove riceve le acque del torrente mallero in questo posto l'adda scorre in mezzo al suo fantastico canyon che viene chiamato forra dell'adda la forra e il canyon sono la stessa cosa detto in parole povere tra gli affluenti dell'adda ci sono il canale crespi il canale villoresi il torrente mallero il torrente frigidolfo e anche i fiumi brembo e serio il serio è il maggiore affluente dell'adda ciao ciao